salve a tutti ragazzi sono zedawillix e oggi vi parlerò se vale la pena o meno spendere 50 euro per red dead redemption versione ps4 ovviamente per la vostra ps4 o ps5 nonostante i tantissimi anni passati anche tutt'oggi è un gioco veramente molto divertente ed è uno di quei giochi che sicuramente rigiochi più volte a distanza di anni red dead redemption è veramente un capolavoro se avete amato red dead redemption 2 sono sicurissimo che amerete anche questo capitolo è un'esperienza eccezionale soprattutto se vi piace il mondo western su ps4 nonostante cambiamenti nonostante giri a 30 fps bloccati dove l'unica novità sarebbe praticamente qualche nuova opzioncina come impostare due nuove tipologie di anti-aliasing vi posso dire che comunque il gioco scorre molto bene non ci sono bug brutte esperienze il gioco va alla grande scorre bene e ci ho passato diverse ore più che volentieri senza riscontrare problemi o cagate come invece mi successe con la trilogy di gta nonostante questo avendosi giocato pure su ps3 non ho riscontrato enormi differenze mi sembrava super giù di giocare allo stesso identico gioco con una qualità grafica giusto leggermente bassa a livello di texture e con qualche calo leggero di fps ma anche su ps3 l'esperienza è stata pressoché quasi identica diciamo non abbastanza peggio dal sentire il peso dei 50 euro o comunque della differenza dei 20 30 euro quello che sono in più per averlo su ps4 rispetto all'averlo su ps3 come invece si sarebbe sentito se questo red dead redemption per ps4 fosse stato una remastered però il prodotto nonostante sia uguale su playstation scorreva bene su switch non vi so dire perché non ce l'ho una switch e non so come li gira onestamente infatti questo video voglio semplicemente trattare in particolare le differenze tra la versione ps3 e la versione ps4 riguardo la xbox non c'è granché da dire potete fare anche le vostre ricerche io non l'ho comprato perché comunque la risposta mi sembra abbastanza ovvia chi ha una xbox magari tipo xbox one e tiene anche una playstation 5 dovrebbe in realtà considerare l'idea di comprarselo piuttosto su xbox che su ps5 costa 30 euro più altri 10 euro di espansione per chi se la volesse giocare in più faccio anche notare che nonostante ovviamente giri anche su playstation 5 la versione di red the ad è pur sempre quella ps4 è stata fatta è stata progettata per la console della playstation 4 quindi alla fin fine ps5 ps4 il gioco è pur sempre quello forse to ci sarà qualche pixelino in lontananza visto meglio sulla ps5 rispetto a una ps4 ma forse però è una cosa che praticamente ti ci devi mettere te per notarla no devi proprio sforzare gli occhi quindi il gioco è sempre lo stesso quindi se avete una xbox one e una playstation 5 prendetelo su xbox one costa 30 euro e avete anche il multiplayer cosa che vi tengo a precisare red the ad redemption versione ps4 non ha il multiplayer come neanche switch avete sentito bene se avete la series o una one che hanno il lettore cd ancora meglio su amazon potete trovare red the ad versione gothi con anche il dlc undead nightmare per xbox 360 a 30 euro con anche il multiplayer vabbè quello ovvio ovviamente sono solo andato su amazon per vedere la possibilità di acquistare questo prodotto secondo me se fate un giro su siti di prodotti usati o altri marketplace come ebay potete trovarla a prezzi simili se non più bassi alla peggio se non trovate niente di affidabile c'è pur sempre il gioco sullo store a 30 euro con il multiplayer incluso poi se vi è piaciuto talmente tanto buttate altri 10 euro per andate nightmare altrimenti buona lo zio e tanti saluti addirittura anche saputo che su una series x il gioco ha una grafica leggermente ma proprio pochissimo è leggermente migliore rispetto a red ad versione ps4 giocato su ps5 chiaramente non ve lo so dire ma onestamente non volevo comprarlo anche su xbox perché la scelta mi sembra abbastanza ovvia la xbox a differenza della playstation può far girare anche i giochi della 360 e devo dire anche molto bene non solo per quanto riguarda red dead ma anche per altri giochi avete una ps3 una ps5 una ps4 e volete giocarlo a tutti i costi compratelo su playstation 3 ragazzi anche anziché su ps4 o su ps5 vi posso assicurare ci ho giocato un paio di rete su ps3 che non ci sono enormi differenze eccetto sui fps dove calava giusto ogni tanto leggermente in alcuni punti ma nulla di così tremendamente grave anzi il gioco girava in maniera fluida e l'esperienza è sempre stata la solita l'unica cosa di cui si può parlare davvero vabbè a parte la grafica ok sono i tempi di caricamento la prima volta che andate ad avviare redhead ps3 cosa che comunque non è nemmeno una roba proprio da farti spendere quei 20 30 euro in più su amazon red dead redemption ps3 versione gothi con il dlc chiaramente anche multiplayer che ancora oggi è funzionante costa 30 euro sono anche certo che sui vari siti come beh come detto prima o comunque siti dove si vendono prodotti usati potete anche spenderci qualcosa di meno poi se sapete magheggiare con la ps3 e sapete come diciamo giocare gratuitamente ragazzi inutile che guardate questa recensione ancora meglio non voglio entrare nei dettagli se non mi butta nel video considerate anche l'idea che giocare gratis su ps3 richiede ovviamente conoscenza e tempo per chi è novizio e anche molta frustrazione i primi tempi con cui si inizia ad entrare diciamo in questo mondo non mi allargo perché lo sapete la stessa cosa vale anche per chi magari non ha una ps3 o una xbox ha solamente una play 4 una play 5 ma anche un buon pc vi assicuro che il modo di giocare ai giochi ps3 su pc esiste ovviamente il discorso è simile dovete investire praticamente il tempo per capire come si fa e al solito anche diverse frustrazioni nell'incappare in possibili errori quando state cercando di capire come si fanno cose del genere le uniche ragioni per la quale consiglio di comprare red dead redemption per ps4 sono queste se non ci avete mai giocato in vita vostra o non l'avete mai finito una volta sola se non avete una ps3 o una xbox non avete tempo o magari volete seguire un'etica morale sull'acquisto di videogiochi e soprattutto se non avete la pazienza di aspettare qualche mese solo per questo motivo consiglio di spendere 50 euro su red dead redemption per ps4 perché comunque arriveranno le copie fisiche per ps4 con le copie fisiche potete comprarlo ad un prezzo molto più basso sicuramente quando appunto le persone inizieranno a venderlo perché l'hanno finito poi nel periodo del break friday e di natale sicuramente il prezzo calerà come è successo con la trilogia di gta e quindi non vedo perché dovreste spendere 50 euro per un gioco senza cambiamenti di 13 anni fa se non per queste ragioni che vi ho appena condiviso ok leggero miglioramento grafico anti aliasing e qualche opzioncina ma per il resto vi assicuro che l'esperienza è sempre la solita ps3 ps4 ps5 il gioco ragazzi è sempre quello poi chiaro magari lavorate studiate avete poco tempo non avete tanta voglia di stare lì a smanettare o comunque di starvi a cercare la copia per ps3 non avete la xbox non avete le alternative proposte in questo video volete giocarci a tutti i costi in questo caso sì ci stanno i presupposti per comprarlo e secondo me non c'è niente di male né spendere 50 euro per una nuova esperienza che comunque è chiaro è costosa certo ma se avete i soldi e siete sicuri di mangiarvi il gioco dall'inizio alla fine allora compratelo ma ripeto è molto meglio molto meglio pazientare e aspettare il black friday o comunque l'uscita delle copie fisiche che mi pare arriverà verso metà ottobre concludo dicendo che per i giocatori che hanno già giocato a questo gioco che sanno già come va a finire la storia l'esperienza è sempre la stessa di quando ci avete giocato dieci anni fa sulle prime piattaforme o comunque che magari qualche anno fa sulla xbox e quindi per chi invece ha già finito il gioco ha già finito la storia io non consiglio assolutamente l'acquisto per me è un prodotto che è mirato a chi appunto come detto prima ha solo una play 4 una play 5 non ha mai giocato a questo gioco e non ha neanche il tempo di stare lì e fare magheggi per giocare gratis essenzialmente io vi lascio con il resto della comparazione spero di avervi aiutato in qualche modo se avete apprezzato i miei sforzi vi ringrazio in caso voleste lasciare un bel pollicione in su da z da will x è tutto buona visione con il resto della comparazione bill williamson come out here right now go away now john don't make me kill you nobody needs to kill anyone bill you must think i was born yesterday you always did think i was an idiot that ain't fair bill you were as my brother i've come to try to save you oh do i look like i need saving bill please they want to kill us all i can help you you never tried to save me before you only seemed to save yourself bill i implore you think about this you implore me you you always were one for fancy words well things are different now john now i'm in charge no more dutch and no more you implore you implore you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time well oh oh poor joh joh joh